Lunedì scorso nella sede ConfCommercio Vicenza si è tenuto un importante incontro con alcuni professionisti per individuare ricette di pronto uso utili al rilancio delle aziende del settore in grosso. Hanno partecipato Rodolfo Marin, esperto di gestione aziendale, e Giancarlo Bianchi della direzione estera della Banca Popolare di Vicenza che ascoltiamo nelle interviste. Innovarsi dal punto di vista dei mercati è un po' cercare una valvola di sfogo per cercare di uscire da quelle che sono le dinamiche di crisi del nostro paese. Si è parlato anche molto di internazionalizzazione come una delle leve principali del fare marketing, pertanto prendere e andare ad analizzare come collocare prodotti e servizi esistenti oppure attagliati a quelli che sono i vari paesi verso nuove frontiere che fino ad oggi non erano esplorate. Da qui andare a mettere in moto tutta una serie di studi che sono le dinamiche per costruirsi una pianificazione adeguata e poi una serie di azioni che portino a dei risultati soddisfacenti per l'impresa. Come può una banca essere partner di un'impresa nel processo di internazionalizzazione? Diciamo che il primo percorso e il primo approccio avviene tramite i nostri uffici di rappresentanza. Oramai ne abbiamo sei sparsi in tutto il mondo e le vostre imprese, i vostri associati devono considerare gli uffici di rappresentanza come una propria casa. Un primo punto in cui arrivando in questi mercati internazionali molto evoluti possano essere di approccio, di ausilio per poter poi da lì partire in un'analisi di mercato e eventualmente anche in un approccio di vendita o di insediamento durevole in questi mercati.